Grazie Era un pezzo di Romolo Coluzzi questo qua e allora siccome si era spragato disse a papà te le faccia la macera La macera era cominciata già qua a quest'angolo e papà la voleva demolire perché non era fatta bene Allora ci disse no no non perdiamo tempo e seguita come sta difatti si vedeva bene si vedeva quel pezzetto era fatto malamente c'aveva la pancia E questa appena invece era fatta bene era fatta e ora è passata da un proprietario all'altro e finalmente si sono decisi di ripulire un po' Che se se ripulissero se il moneta tutti sti luderi e ci rifacessero le case sarebbe molto meglio Perché se non lasciano liberi alla ricostruzione il paese si spopola Pare che hanno intenzione però intenzione buona di farci ricostruire Io pure tengo un router qua giù saranno 300 metri quadrati Ci stanno gli aranci, gli aranci alti ma i muri sono più alti degli aranci Saranno i muri alti 7-8 metri Ho già fatto il progetto ma lo hanno passato qua al comune Ciao e aspettiamo l'autorizzazione da parte della provincia qua Speriamo bene Io potrei realizzare un palazzo sicuramente tre abitazioni, tre appartamenti Ma ce ne sono tanti tanti Irutili da ricostruire Poi papà l'ha ripreso Prima di riprenderlo Lo voleva proprio demolire Dice no non perdiamo tempo a seguire Poi questa qua viene Viene quella viene questa Levanto questa qua mezzo Si leva quella Questa rimane isolata Si avrebbe levato Se vedete che va dentro Perciò bisogna cercare di levare questa qua Va dentro Alleva questo Come cappellaccio Ecco questo qua Pagano Fatti così bocca. Ecco ne vado. Falanghi. Poi metti i sassi sotto. Molla. Come tenere con la mazza qua? No, grazie. E' un altro sasso grosso. Ricordiamo quel manico per fare leva. Quello l'alborso giù. Vediamo. Metti i sassi sotto. Leva quelli piccoli. Leva quelli piccoli. Metti li qua. Metti li sotto questa roccia. Adesso mi serve uno qua sotto a me. Pure la mazza. Se noi alziamo un po' con una botta di mazza si spacca pure questo. Mettiamo un sasso ancora sotto. Guarda. Manda questo qui. Leva. 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 Vambiamo sollevando là. se lo sollevamo la mettiamo un sasso, se spaccano, se vieni sopra si spaccano mettete sopra così con questo, pure il tubo, alza questa punta, io ci butto una vetra sotto e vai, vai alza ancora, ancora eh, a ribiglia di qua, via a brucia dentro, dentro Paolo, vedi a brinca là Paolo che fai qua? eh, sto scaricando un camioncino di pozzolano tu che fai qua? eh, passa un po' di giorni, ah beh, ma solo sei venuto? si, che ho scolto qua, stai affusato? si, sono diventato pure un nonno già eh, auguri allora, maschio femmina? eh, maschio, maschio ciao 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 ? ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.